Siamo riusciti ad avere la gara nazionale di scherma, è per noi un evento molto importante perché vi è un coinvolgimento di tantissimi giovani che verranno da ogni parte d'Italia e quindi per questo volevo ringraziare tutte le scuole del territorio, soprattutto il secondo circolo didattico, la dirigente scolastica che ha concesso la palestra della scuola elementare di San Vincenzo e l'atrio fuori per montare una tentostruttura. Quindi anche questa mattina qui vi è la presenza di tanti ragazzi della scuola media Sant'Ommaso d'Aquino, appunto per questo noi vogliamo il coinvolgimento di tutti gli enti prepossi sul territorio. Sono Rosa Scolesi, assessora allo sport qui a Mercato San Severino, al Comune di Mercato San Severino e colgo l'occasione per questa manifestazione, per questa gara nazionale della scherma per ringraziare tutti coloro che hanno fatto sì che questa manifestazione avvenisse qua nel Comune di Mercato San Severino per la prima volta. Per noi dell'amministrazione non può essere che un vanto che questa manifestazione avvenga nel nostro territorio con la presenza di tanti giovani che si avvicinano allo sport. Io come assessore propongo che queste manifestazioni, questi eventi sportivi avvengano sempre di più nel nostro territorio perché è giusto che i ragazzi si avvicinino allo sport anziché, non dico perdere tempo, ma fare qualcosa che non sia utile alla loro vita. Oltre che allo studio, lo sport è una cosa molto molto importante e che tra l'altro è motivo di aggregazione e di unione tra i giovani. Buongiorno, assessore Antonio Terregno, assessore al bilancio e attività produttive del Comune di Mercato San Severino e organizzatore e rappresentante del club scherma Fisciano Mercato San Severino. Quindi io parlerò di un aspetto più tecnico di questa organizzazione, di questo evento. Parto da qualche numero, sono stati, proprio ieri abbiamo ricevuto le ultime iscrizioni, siamo arrivati ben a 261 iscrizioni rappresentate di circa 50 squadre. Questo è un dato molto rilevante perché aumenta il dato degli altri anni di questa competizione, c'è un 25% in più di iscrizioni. Volevo ringraziare, oltre che tutte, l'intera e l'amministrazione di Mercato San Severino mi preme ringraziare gli sponsor di Mercato San Severino e Fisciano che hanno permesso la costruzione di una tenda di struttura di oltre 1200 metri quadrati composta in tutta la sua superficie di abitabilità. Nulla, speriamo che possa procedere tutto per il meglio e con questo auguro anche un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti a questo evento. La regionale è un evento molto importante che per la prima volta si svolge qui. Questo è il secondo evento che si svolge qui, a meno come presentazione della manifestazione, perché l'anno scorso la stessa società ha organizzato una gara zonale, quindi una gara a livello nazionale, al curso di baronisti. Quindi quest'anno l'amministrazione comunale ha voluto, con forza, che si facesse la città di Mercato San Severino e quindi chiaramente abbiamo la società accontentata, tra virgolette, l'amministrazione comunale, la quale si è messa a disposizione, io pubblicamente la ringrazio per questo, di mettere a disposizione la struttura idonea e adeguata per la manifestazione. Quindi noi da sabato e domenico vedremo sulle pedane del club schermo Fisciano, Mercato San Severino, vedremo gli atleti, gli atleti under 14, a squadra, che si cimenteranno sulle pedane, quindi per dare lustro e grandi risultati alla nostra federazione. Sempre più attenzione il nostro territorio, quindi. Sì, il nostro territorio, per quanto ci sono tutte queste problematiche relative alla congiuntura economica, la regione Campania, quando riguarda la schema, ha una crescita esponenziale. Rispetto all'anno scorso noi aumentiamo circa il 30%, siamo la regione che si è classificata come medagliera al terzo posto nello scenario nazionale e abbiamo portato durante il Gran Premio Giovanissimo, quindi sempre durante il 14, un numero molto elevato di atleti, quindi siamo la quinta regione d'Italia come numero di partecipanti e la terza come medagliera, quindi significa che la nostra regione è viva e vegeta e quindi nonostante, come dicevo prima, le congiunture economiche riusciamo ad atticchire ancora grandi ragazzi, molti ragazzi per la pratica di questo sport. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!